Siamo messi molto meglio di qualche giorno, di qualche settimana fa o di qualche mese, molto meglio. Stiamo recuperando, stiamo recuperando, è evidente, c'è molto senso adesso di positività, siamo consci delle responsabilità, è una tipica situazione di Italian case che caratterizza tante, non voglio dire tutte, è esagerato, molte delle situazioni nel recente ma anche lontano passato dai paesi. I temi sono l'ordine del giorno, le criticità, le complessità sono, mi sento di dire, praticamente quasi in totalità la parte infrastrutturale, così come lo sono tanti altri settori del paese. Però c'è molto, anche all'interno del capitato, e lo dico, dal primo giorno, mi sono anche esporto, a grado di tutto questo, secondo me saranno i migliori giorni invernali di sempre.